Dal Definibus di Cicerone, una traduzione, una versione che normalmente viene intitolata naturale e il desiderio di sapere. Tantus est innatus in nobis cognizioni sammol et scientiae, utenemo dubitare possit quing adeas res hominum natura, nulla emolumento invitata da piatur. Dunque, la prima che ho messo in crassetto non è introdotta da nessuna congiunzione subordinante per cui è la proposizione principale, notate tantus ut che ci dice che è una consecutiva. Poi c'è nemo dubitare possit quing che sono quelle formule legate al verbo di dubbio che reggono per lo più una dichiaratira, una complementare diretta, un'esplicativa, non so, ci sono modi differenti di definirla, che noi in italiano potremmo definirla un'oggettiva. Vediamo un po'. Tantus est innatus in nobis cognizioni amor e scienze. L'amore per la filosofia e la scienza è innato, è così grande innato in noi, è innato in modo così notevole in noi che, così grande che, nessuno può dubitare perché mentre in latino noi con la consecutiva abbiamo un congiuntivo, in italiano il congiuntivo deve essere tradotto all'indicativo, che nessuno può dubitare che, dunque natura ominum che è il soggetto, la natura degli uomini è rapita, è trasportata, ma è rapita forse meglio ancora, adeas res, per quelle cose, invitata, parliamo di quelle cose, sono l'amore per la filosofia e per la scienza, per quelle cose, invitata, spinta, da nessun interesse pratico, quindi nulla emolumento, un complemento di causa efficiente, rapiato leopassivo, è rapita verso quelle cose. Vidya Musne, già questo ne come suffisso ci dice che siamo in interrogativa, poi vedendo tutti questi punti interrogativi, evidentemente Vidya Musne è una interrogativa principale. Vidya Musne, ut pueri ne verberibus quidema contemplandis rebus et per quirendis deterreantur, e qui abbiamo poi una serie di ut che si ripetono, ut pultis si recurret, ut aliquid scires se caudea, ut idalis narrare gestia, ut pompa l'utis eccetera, teneantur, ob e anche rem, vel famensitim perferant, e questo però non è più una... sì, non è più... no no, è anche questa un'interrogativa in diretta, perché come vedete è collegata dal let e let ci mette sullo stesso piano le subordinate, quindi c'è tutta una serie di subordinate interrogative indirette, rette da una interrogativa diretta, quindi Vidya Musne, interrogativa diretta, punto interrogativo, tutte le altre subordinate interrogative indirette. non c'è un videamus che è posto al congiuntivo, io direi quindi che non sarebbe opportuno tradurre non vediamo forse, perché non vediamo forse, secondo me dovrebbe essere Vidya Musne, secondo me è una... questa è una proposizione evidentemente principale interrogativa, ha la caratteristica della dubitativa o potenziale, non dovremmo forse noi vedere che, come, non dovremmo forse... andate a vedere tutte le mie lezioni sul congiuntivo, non perché altrimenti se non c'è una potenziale o una dubitativa, io direi che è forse meglio una potenziale in questo caso, anche se c'è il punto interrogativo, non vedo perché dovrebbe esserci il congiuntivo, quindi non dovremmo forse noi vedere come i fanciulli, né quidem verberibus de terreantur, non sono neppure tenuti lontani con con... 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 le frustate, no? E... o dalle frustate, meglio ancora, perché abbiamo un verbo passivo, quindi abbiamo una causa efficiente, il né quidem neppure, poi ho aggiunto un non, perché in latino le due legazioni non ci possono essere, in italiano invece vanno bene. Come i fanciulli non siano neppure tenuti lontani dalle frustate, da che cosa, complemento di allontanamento, a contemplandis rebus et perqui rendis, abbiamo la costruzione del gerundivo, dove il nome che accompagna il gerundivo è lo suo complemento oggetto, che accompagna il gerundivo evidentemente nel suo genere numero caso, e il gerundivo si traduce con l'infinito, dal contemplare e dal ricercare la verità, le cose, poi questa parola si può un certo punto, a un certo punto resterei a mille possibilità di traduzione. Come spinti ritornino? Come siano felici di conoscere qualcosa? Come ce la mettono tutta? vogliano in qualche modo, in qualche modo, narrare queste cose, questa cosa agli altri, dopo averle imparate evidentemente. Come, qui c'è un altro verbo all'impassivo, siano attirati, e qui tutta una serie di cause efficienti, dall'apparato, dai giochi e dagli spettacoli e usmodi di tal fatta, di tal genere, e ob e amrem, per quella cosa, perferant, sopportino, vela, addirittura la fame da sete? Ecco, questa è la traduzione. Andiamo avanti. Qui è vero, questa è una riaffermazione, no? E che, come per dire, non è chiaro quello che ho detto. Qui ingenuis studis, atque artibus delectantur, non ne videmus, e di nuovo con un nonne all'indicativo, siamo in interrogativa diretta, infatti vediamo il punto interrogativo qui sotto, non ne videmus seos, nec, valitudines, nec, rei familiari, sabere, razione, et omnia, perpeti, ipsa, cognizione, eccentia, captos, et cum maximis curis et laboribus compensaream, qua, dicendo capita volutate, non è facile. Vediamo di provare a tradurla. Innanzitutto, qui abbiamo una proposizione relativa, qui non è nessun relativo, siamo sicuri, al 100%, perché la proposizione principale è già questa. Notate qui eos, di nuovo dimostrativo più relativo, andatevi a vedere la mia regola del dimostrativo più relativo. Il latino bisogna mettere prima il dimostrativo, poi il relativo. Quindi io traduco prima questa proposizione, che oltretutto si va di bene, eos non fa parte della principale, ma è già il soggetto dell'infinitiva. Però io devo fare in modo di inserire qui, dentro questo eos, il qui. Altrimenti non inserisco più. Non vediamo forse che inizia l'oggettiva. Quelli, facciamo iniziare la relativa, oppure coloro, i quali sono consolati, sono dilettati dagli studi onesti e dalle arti. Riprendiamo l'infinitiva. Non vediamo forse che quelli. nec valitudines, nec rei familiari, avere relazione. Avere relazione vuol dire che non si interessano, che non hanno interesse né della salute né degli affari familiari. Et, se c'è un et, vuol dire che questa è un'infinitiva e quest'altro è un'altra infinitiva. E ogni è soggetto e ogni cosa, perpeti, è sopportata, quindi, e sono disposti a sopportare ogni cosa, captos, questo captos staconeos, presi, trasportati, cognizione e scienza, dalla filosofia e dalla scienza. Di nuovo un et, un'altra infinitiva, infatti abbiamo compensare. E sono disposti, compensare EAM, ad acquistarla, a possederla, con massimo oscuri, con le più grandi preoccupazioni e fatiche. Attenzione, ad acquistare lei, attenzione che c'è lei, ma è legata a voluptatem, a raggiungere, quindi, EAM voluptatem, quel piacere, che ricevono, ex dicendo, complemento di origine, dicendo è un gerundio, si traduce con l'infinito, dal sapere, dall'apprendere, dal conoscere. Notate che c'è un congiuntivo, ma sono le famose attrazioni modali, perché è retto da un infinito, e anche questo va al congiuntivo in italiano, lo introduciamo con l'indicativo. Questa è una regola che ho spiegato abbondantemente nei miei congiuntivi, andatevi a vedere quel lavoretto che ho fatto sul mio sito. Andiamo avanti. Dunque, omerus, videatur. Attenzione che c'è la costruzione personale di videor, dove omerus è soggetto di videor, ma noi poi dobbiamo mettere videor all'impersonale, e omero lo facciamo diventare soggetto di vidisse. Proviamo prima con la traduzione letterale letterale. A me, in vero, omero, potrebbe sembrare, perché siamo di nuovo col videatur, congiuntivo, aver visto qualche cosa di tal fatta in quelle cose che Finserit ha scritto sui canti delle sirene. Ricominciamo da capo. A me, in vero, potrebbe sembrare, in personale, che omero, abbia visto, quiddam e iusmodi, una cosa di tal fatta in quelle cose che Finserit ha scritto sui canti delle sirene. E vediamo un po' qual è il pensiero dell'autore. Allora, c'è di nuovo la costruzione personale di videor. Vedete? Videntur, poi abbiamo solite esse revocare. Eos è il complemento oggetto di revocare. Chi è il soggetto di videntur? Qui non è espresso, sono le sirenes. Quindi, vediamo di costruirla. e prima traduciamo letteralmente. Cioè, sirenes è il soggetto di videntur. E la traduciamo personalmente. Solite esse manca l'esse. Solite esse revocare. Ne, infatti, le sirene sembrano essere state solite a richiamare quelli che passavano. con la suavità delle voci o con qualche certa novità e dalla varietà del cantare, del canto. Cantando è un gerundio, quindi corrisponde all'infinito. Evidentemente del cantare sta male. In italiano è meglio mettere il sostantivo corrispondente del canto. Facciamo la costruzione impersonale. Ne, infatti, sembra che le sirene siano state solite richiamare quelli che passavano con la suavità delle voci o con una certa novità e varietà del canto. sed ma, poiché, ed è una causale questa, profite bantur, confessavano, promettevano se scire multa. La causale equia profite bantur, che regge poi l'oggettiva, se di sapere molte cose. Qui manca un'ita sottinteso. Siamo sempre lì. Molto spesso le consecutive hanno l'ita sottinteso. E allora il problema qual è? Per stabilire che c'è un'ita sottinteso. Capire il senso della frase. Qui, evidentemente, non può essere una complementare diretta. l'ut non introduce un indicativo, quindi non ha valore di come. Mettere un affinché per, affinché, direi che non va bene. Cosicché a de reserent. Gli uomini si avvicinavano ad saxearum, ai sassi di loro, ai loro sassi, cupiditate, discendi, per il desiderio di sapere. Discendi è di nuovo un gerundio, corrisponde l'italiano ad un infinito. Penso che non ci sia altro da dire. Notate questo, erano solite chiamare questa serie che ho sottolineato, suavitate, vocum, novitate, varietate, cantandi. Questo suavitate, novitate, varietate sono tutti ablativi che dipendono da, erano soliti richiamare quelli per mezzo di che cosa? Con, no? E sono tutti quindi complementi di strumento.